Uno dei primissimi acquisti della palla Canestro Roseto, il primo under arrivato qui nel Lido delle Rose, Alexa Nikolic è arrivato direttamente da Rieti, ma serbo di nascita, carico già per questa nuova stagione, possiamo dire già che sei uno dei più in forma in queste prime settimane di preparazione con Coach Strullo? Sì, direi di sì, la squadra è in ottime condizioni fino adesso, è la terza settimana della preparazione e noi ci alleniamo con un'intensità molto alta, gli allenamenti sono duri come devono essere ovviamente. Fin da subito si è creato un buon gruppo, fin dalla prima settimana e io sono proprio felice che sono finito qui. Primo anno in Serie B, carichissimo, ho voglia di spaccare tutto ovviamente. Ecco, come nuovo compagno avrai Valerio Amoroso che in questi ultimi 15 anni è stato forse uno dei migliori lunghi italiani in circolazione, sia tra Serie A, Massima Serie e soprattutto A2, ovviamente tu sarai lì vicino per prendere anche qualche consiglio in più da lui. Sì, posso dire che è veramente un onore giocare con un giocatore come lui, con la sua esperienza, la storia che ha fatto nella sua carriera precedente. Lui aiuta molto per i compagni di squadra, essendo uno dei più anziani della squadra diciamo, e quindi è un ottimo compagno di squadra e serve sempre ai noi giovani per migliorare. Ecco, primo impegno ufficiale sarà l'11 ottobre nel derby a Teramo contro la TASP nella Supercoppa italiana e sai benissimo come questa partita, già conti tantissimo in tutta la cittadinanza di Rosetta. Sì, conto tantissimo come tutte le altre secondo me, noi ci stiamo allenando veramente bene e ci stiamo preparando già per la prima del campionato. Io sono carichissimo sinceramente, ma anche i compagni penso che siano molto carichi e ci stiamo allenando per questo.